Una banda di quattro disperati decide di studiare un piano e fare soldi in fretta Viagra! Ma è imprevisto No, 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 da quella parte È scomparso un intero carico di pillole di Viagra per un valore di circa 63 milioni di dollari E la loro fortuna finì a mollo nelle acque del villaggio Che strano sapore all'acqua oggi Che roba è? Caramelle celestiali Oliwater, il film che vi tira lassù Grazie